ciao sono nanni o su nannighetto andiamo a fare un giretto per roma ma c'è stato nannighetto ma c'è una nannighetto ma c'è una nannighetto ma 3, 3, 3 fugga 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 fa the cave Qua è dove Luca va a scuola? Qua è qui? 3.50 E' un po' di più. Che c'è il trattore? E' un po' di più. Ho visto una signora, la terrazza stava cucendo, la stavo per fischiare a dire se mi cucci fa la mia mente. La terrazza stava cucci a cura, la terrazza, che era meglio il canale e con Grazie a tutti 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 Grazie a tutti